Salute a tutti! Che un pote facer in Russia in hiberno? Ben che in vostro paese probabilmente non abbia più niente, c'è il ha molto. Allora, un pote prendere in arrenda un parve casetta come questa, che io vi mostrare. C'è il ha l'angolo della cucina, un parve frigorifero, il ha le toilette e le dusche, un parvenestra anche. Questa cosa io credo sia bella amaca o amaca in interlingua. Questo è un divan letto, ma noi non va a dormire. Guarda, 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 le scala va su. E io non succede in mostrare le hic, o non poter viderlo, ma il ha un letto a due places, bastante grande per due persone. E allora, noi vediamo qui il ha foras. La amaca ovviamente può essere removita. Come si appella questo in interlingua? In italiano questo è tino. Ligne. O un pote aperit. Oh, questo è pesante! Ma il ha acqua, io vi mostrare questo latere. Non molto visibile, ma il ha acqua. Questo va a essere aperit e il nostro va a entrare e lavarsi. Questo è il, come diciamo, il boiler, il bollitor. Però le... Ubbiamo ponere l'igna e il va a escaldare l'acqua. Questo non è un simple... Oh, come si appella questo animale? Renna. Io crede. Questo non è un simple renna. Questo è un grillatore. Forse, questo è la parola. Ubbiamo poter fare grillate di carne o di lo che uno vuole. E io vi mostrare un poco le neve. Il ha ancora. Bastante di neve, ma questo è molto... Come diciamo... Dur. Quasi glacia. E un timido timido sol primaverile. Io vi mostrare la casetta dell'exteriore. Molto, molto simplici. Ma molto comodo. E lo è riscaldato internamente. E questo potete vedere un'altra casa. Il ha flore di queste casette. In questa area. Vos forzano a audire un po' di ruido. Perché il va a costruire un'altra casetta tal. Forzano un po' di vedere che il ha le sentiero con queste parve lampadinas. Lumes. Che va a illuminarle il sentiero. Perché, di fatto, in le vespere. Non potete molto facilmente perderse. Ma con queste parve lumines. Non si va a ritrovar la strada di casa. Allora, se vossessi. Innoiate. Del varie clausura. Lockdown. Vos potete venire ricchi. Vos non va contagiar una persona. E nulla persona va a contagiarvos. A reudir. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.